Dall'Italia coppia 201 Stefano Arioli, Chiara Luisi Ancora dall'Italia coppia 219 Matteo Antonietti, Ravenna Dili Dalla Germania coppia 224 Julio Cesar Carderon, Sofia Luisa Paul Dalla Russia coppia 243 Sergei Kurkatov, Xenia Rubina Dalla Russia Artyom Lucin, Irina Samoilova, 249 E ancora dalla Russia coppia 263 Dimitri Astafiev, Irina Ponomareva E chiude questa ronda numero due la coppia 266 Alessandro Cavallaro Marcella Monaco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.